Nessun nuovo centro commerciale nelle periferie della città, l'assessore al commercio e vice sindaco Raffaele Daniele smentisce le notizie diffuse dalle opposizioni, coalizione sociale in particolare e dal movimento potere al popolo nei giorni scorsi, che polemizzano contro la volontà dell'amministrazione comunale di cedere nuovi spazi alla grande distribuzione. Prevede invece un polo fieristico al progetto Case di Bazzano, uno industriale a Monticchio, una zona commerciale tra pile e sassa, un'area dedicata alla media distribuzione nelle immediate periferie cittadine e infine il centro storico in cui incentivare le piccole botteghe alimentari e artigianali di prossimità. Tutto questo è previsto nel nuovo piano del commercio sul quale l'assessore Daniele sta lavorando nell'ottica di mettere ordine nel caos che ha contraddistinto lo sviluppo urbanistico della città negli ultimi anni. Nella zona est prevedo io uno sviluppo di tipo industriale, vista la vicinanza con il casello dell'Aquila Est e vista tutta la rete infrastrutturale che è stata creata negli ultimi periodi, negli ultimi anni. Lì anche nel progetto Case di Bazzano credo che si possa pensare un polo fieristico, proprio vista la vicinanza con l'autostrada e con la superstrada che garantirebbe un accesso diretto. Nella zona ovest invece, dove comunque ci sono diversi già insediamenti commerciali come Globo, Aquilona, è da lasciare una vocazione di tipo commerciale. In periferia io non vedo la possibilità di creare nuovi centri commerciali, ma al massimo una media distribuzione come supermercati o magazzini. Abbiamo fatto uno studio e nel centro Italia praticamente ce n'è uno in Umbria e poi basta, quindi la possibilità di creare un'appetibilità seria per un polo fieristico in Abruzzo e all'Aquila c'è. Noi abbiamo pensato per cominciare quattro piastre, quattro piastre sono circa 15.000 metri quadrati di esposizione che è un'ottima misura, la faremmo attraverso una finanza di progetto, quindi attraverso un privato. Noi cediamo il terreno e l'edificabilità, lui edificherebbe e gestirebbe il polo fieristico che potrebbe mantenersi da solo, pensiamo ad esempio alla fiera per la ricostruzione, mobile antico, fiori, giornalismo, fumetto.